buongiorno come si va come si va sì dimmi sì sì per dire tutto per dire tutto per torno del greco torno del greco dobbiamo crescere come società come pubblico è tutto perché torno merito merito questa città merito il calcio sì sì perché sì sì allora malatella il tifoso più storico della turris è il personaggio più storico di torre del greco non voglio sapere niente quest'anno hai pagato hai pagato i biglietti che tu sei che tu sei un portoghese no 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 tu sei un portoghese ho pagato ho pagato è un biglietto di russo eccolo presidente forza turris è l'anno prossimo vinci il campionato anche l'anno prossimo grande presidente grande presidente ci sentiamo adesso prende il caffè forza tutto lo stadio bene ciao